buongiorno sono beatrice viano sono la rappresentante della classe quinta dello scienzo umane del liceo federico alberto di lancio torinese il video che abbiamo appena visto è stato un insieme di diversi pensieri di tutta la classe a partire da febbraio 2022 quando abbiamo all'indomani della morte di lorenzo parelli quando abbiamo letto un articolo di marco revelli che proponeva di tornare a una distinzione netta tra la scuola e lavoro per tutelare la scuola dalle logiche del mercato nonostante non avessimo ancora fatto esperienze di alternanza nelle scuole abbiamo pensato di di pensarci su e di provare a dire la nostra quest'anno abbiamo ripreso tutte queste riflessioni e le abbiamo unite in un testo coeso e collettivo di classe noi ci teniamo ringraziare i gli organizzatori per averci dato la possibilità di di dire la nostra e soprattutto ci teniamo a ringraziare per perché abbiamo potuto contribuire nel nostro piccolo ad un dibattito su una questione che ci toccherà sempre più da vicino grazie